e ciao a tutti ragazzi io sono elettro 16 e oggi siamo nella minecraft scp nel mondo ovviamente da scp lockdown qua c'è eric toy e qua c'è lscp della scorsa volta che è lscp 682 co intanto la fuori stanno bagliando i cani che manco la madonna a e se ve lo chiedete no non cane un gatto vabbè nello scorso bisogno avevo visto il lui lscp 682 co intanto raga i label ci hanno letteralmente conquistato casa pure la macchinetta del caffè vediamo che cosa mi dà a ok cup of milk buono il latte mettiamo qua anzi prendiamo un'altra un'altra cup of milk va bene lo so che è buono il latte però fino a un certo punto poi arriva il punto in cui non è buono allora state là dentro ok allora raga lscp di oggi che andremo a visitare oggi so qual è si trova qua sopra da queste parti qui in altura se non erro non è poi si mi era quello sì 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 c'era qui era qua sopra c'è anche questo da vedere che non è quello di oggi era più qua sulla spiaggia se non mi sbaglio c'era delle ecco ecco non mi ero sbagliato eccolo qua questo è lscp di oggi tanto qua c'è un'altra cella che mi sa che era quella dell'allosauro ma si era buggato tutto e quindi si è generata una nuova questo qua era il primo episodio intanto qua o meteo sereno ok e dato pure il tempo ralda ora comunque qua bisogna fare un attimo attenzione che potrebbe esserci il dottore comunque qua allora la cella c'è delle lanterne marine non so se c'entrano con lscp penso o di sì o di no aspettate un attimo ok allora stavo dicendo che ci sono le lanterne e penso che c'entrano con lscp sul fondo cosa c'è c'è un pesce va bene ok ok la cella un po strana è strana come c'è la c'è qua l'erba ho sentito un suono manco molto gradevole cioè allora qua c'è tutto un coso d'erba come se fosse incompleta e qua c'è la cella sento suoni mi sa che lscp è un mob ok allora allora lscp è di classe safe ed è il 1093 nell'immagine che sembra una candela o sembra un'altra cosa che non voglio dire però comunque una cosa che fa luce aspetta questo mi sa che lo conosco numero 1093 mi sa di no forse la la c'è la cella un po a simbolo assi me lo ricordo l'avevo visto il fascicolo una volta così per curiosità lo conosco questo scp allora ve lo spiego praticamente questo scp si chiama del lamp meno vero l'uomo lanterna e praticamente non è nulla di particolarissima mente particolare è praticamente un essere umano che ha una testa illuminata vediamo un po eccolo ecco è uscito no 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 buono robo raga era uscito eccolo qua questo quello scp è un uomo che se vedete la sua testa è tutta luminosa da quel che ho letto lui dovrebbe produrre delle radiazioni quindi lui praticamente è radioattivo ma non mi sta facendo nulla cioè è buono innocuo e safe è sicuro vai rientra entro anch'io con te non uscire ok lui praticamente vi spiego a questa testa che si illumina e dovrebbe avere qua sulla schiena mi sa che si raga questa è la schiena dovrebbe avere una specie di interruttore che gli permette di accendere e spegnere la sua testa però non ce l'ha non si può fare nulla se lo picchio non succede nulla io direi raga facciamo il test della luce secondo quello che abbia che sappiamo la sua testa si dovrebbe illuminare quindi dobbiamo letteralmente oscurare l'intera cella ok togliere ogni cosa che fa luce qua ok qua c'era questa dobbiamo togliere anche ok eh sì raga se notate adesso lo portiamo un po nel buio vai lì raga se notate la sua luce la la sua testa fa luce però c'è c'è non è che illumini la stanza come la lampada che fa così cioè lui illumina però illumina tipo c'è se tipo tu lo puoi vedere se stai nel buio cioè se lui sta nel buio lo puoi notare io non so che altri test si possono fare con questo scp tecnicamente doveva essere radioattivo dove doveva fare altre cose però qua non fa niente ma queste no non li posso mettere no le ho rotto le lampade sono scemo ecco ciò così ti ridiamo anche le lampade raga questo qua tecnicamente molto innocuo c'è un umano non ricordo se poteva parlare ma mi pare di no per il resto non fa nulla no raga mi sa che cioè che cosa dobbiamo vedere altro cioè come avete presente pianeta addominale che è un uomo col pianeta sulla pancia e basta ecco questo è semplicemente un uomo con una testa che si illumina anche se dovrebbe fare di più da quel che avevo letto nel fascicolo cioè avevo letto che era radioattivo e che potevi spegnere e accendere la sua testa tramite un interruttore che aveva qua sulla schiena ma qua intanto se notate non c'è vedete che non c'è niente sulla schiena c'è proprio il vuoto magari quello però non penso che sia l'interruttore quello mi servirà più quello è il sedere vabbè che su minecraft non ci dovrebbe essere vabbè che c'è anche qua raga io non so che altri esperimenti potremmo fare potrei provarlo a mettere in una stanza completamente buia potrei però non vorrei non c'ho voglia di fare altro e niente raga allora questo qua era l'SCP di oggi io non so che altri test possiamo condurre magari lo portiamo qua dai 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 forza ma che portiamolo qui no aspetta ho sbagliato blocco ok signor uomo lanterna esca dalla cella esca dalla cella la porta è aperta vai 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 ok dov'è eh no è andato alla luce fancu dov'è eccolo qua eh vedete raga cioè se lui andasse tipo non lo so in un luogo buissimo si noterebbe tipo vedete noi siamo al buio più totale lui si può vedere tramite la sua testa benché non illumini proprio proprio diciamo che è luminescente ecco vedete è luminescente vedete cioè qua è tutto cioè tipo facciamo finta che siamo rientrati vedete cioè lui si nota cioè tu dici che è quella roba è l'uomo lanterna questa cosa se non mi sbaglio la potranno fare anche gli headlights cioè l'SCP 745 nell'altro mondo perché ovviamente la loro testa degli headlights è luminescente intanto faccio un ultimo test ovvero prova a ucciderlo non mi pare abbia trovato nulla però raga se notate la torcia fa luce quello invece non fa luce però almeno illumina la stanza e il luogo raga è molto interessante me lo porterò al laboratorio lo metterò nella zona degli SCP ma noi di sicuri perché ho fatto quella zona nella casa mia non penso di portarmelo qua c'è del ferro va bene e niente ragazzi io direi che per questo video è tutto lasciate un bel like iscrivetevi e ovviamente da me Eletro16 è tutto ciao 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 ciao